Dovete porvi dei limiti. Quanto spingo per non essere esagerato? La recensione del cinema è così. Pochi sguardi, poche facce, altrimenti la macchina la presa le coglie subito. E scandaglia che cosa c'è dentro di voi, se siete veri, se siete finti, se andate ad attingere alle vostre esperienze personali, se ve le inventate sul momento. L'obiettivo coglie tutte queste cose. Lei fatta bene, perché il tuo sguardo sembrava veramente innocente. Ho trovato un livello di recitazione molto alto. I seminari, gli stage servono. Credo che sia fondamentale che le scuole facciano gli stage con registi che lavorano davvero. Grazie. Grazie.